Stasera la gara tra Costa Rica e Germania batterà un tabù. A dirigere per la prima volta una partita di un mondiale sarà una donna, la francese Stephanie Frappard. La 38enne è una delle tre arbitrodonna, con la giapponese Yoshimi Yamashita e la ruandese Salima Mukanzanga, del gruppo dei 36 direttori di gara ai mondiali, ma nessuno aveva ancora diretto una partita. La Frappard, interna con due assistenti donna, la brasiliana Neza Black e la messicana Karen Dias Medina è comunque molto ben affermata nel panorama arbitrale francese ed europeo.